ciao amici buon martedì benvenuti alla lezione imparare, osea aprender. Hoy seguimo il cuento del carnevale italiano hablando delle maschere. No, no estoy hablando della mascarilla che tenemos che ponernos ahora, por supuesto. Le maschere son quizá un aspecto meno conocido a nivel internazional. Literalmente significa mascaras, pero son los personaggi tradizionali típicos del carnevale italiano. Su origen se remonta a la famosa Comedia dell'arte, un género teatral molto particolare che si desarrollò in Italia nel siglo XVI. La principale caratteristica era la ausenza del guion. Praticamente, en lugar de aprender de memorias lineas, los actores basaban su interpretación en una trama e improvisaban en el escenario. varios personajes cómicos de estos espectáculos que se hacían en la plaza, con la calle, sobre palcos muy sencillos, eran caracterizados cada uno por su máscara, su atuendo y unos rasgos caracteriales muy definidos. En particular, la presencia de mujeres en el escenario fue una una verdadera revolución, porque antes del nacimiento de la Comedia dell'arte italiana, de hecho, los roles femenino eran interpretados por hombres. vamos a descubrir de entre ellos lo que se convirtieron en la maschera más popular, escuchando una fila strocca, o sea, un poema, que solamente se enseña a los niños, dedicado a nuestras máscaras tradicionales. Y de paso aprenderemos también algo de geografía italiana. es hambúia torinese, meneghino, milanese, vien da bergamo arlecchino, stenderello e fiorentino, veneziano e pantalone, l'egra colombina, di bologna balanzone con il furbo fagiolino, Vien da Roma rugantino, pur romano e meo patacca, siciliano peppe Nappa, di Verona fracanappa e pulcinella napoletano. Lieti e concordi si dan la mano, vengon da luoghi tanto lontani ma sono belli, sono italiani. Arlecchino, personaggio della città di Bergamo, porta un abito colorato e una maschera nera. È un servo povero, tupido e imbroglione che accompagna in mille avventure il suo amico Brighella. Furbo e senza scrupoli Pantalone e Colombina Pantalone è un vecchio mercante di Venezia, brontolone, avaro e lussurioso. Cerca continuamente di sedurre la sua serva Colombina, suscitando la gelosia dell'innamorato Arlecchino. Pulcinella, veste di bianco e porta una maschera nera. Anche lui è un servo, ma mentre Arlecchino è allegro e stupido, il napoletano Pulcinella è malinconico e rappresenta la saggezza popolare. Balanzone Dottore di Bologna Stenterello Personaggio di Firenze Impulsivo, chiacchierone e sempre disposto a difendere i più deboli. Nonostante abbia sempre paura. Gianduia Di Asti è il tipico gentiluomo piemontese, generoso e amante dell'allegria, del vino e della buona tavola. Dottore di Bologna Stenterello